In questo numero di AgriFood Magazine, emissioni industriali, gli allevamenti di bovini esclusi dalla direttiva, Alvia Free CO2, imprese vitivinicole più sostenibili. La birra traina l'agroalimentare di qualità. Nasce l'etichetta sostenibile Positive Food. L'Europarlamento vota per escludere gli allevamenti di bovini dalla direttiva sulle emissioni industriali, bocciando così la proposta che la Commissione europea aveva presentato ad aprile 2022 in vista della revisione del testo. L'obiettivo della Commissione europea era quello di equiparare le stalle di grandi dimensioni alle industrie. Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, infatti, il settore zootecnico da solo è responsabile del 54% di tutte le emissioni di metano di origine antropica dell'Unione europea, soprattutto a causa dei bovini, mentre gli allevamenti sono responsabili del 73% dell'inquinamento idrico dell'agricoltura dell'Unione. Inoltre, l'allevamento intensivo in Europa è responsabile del 94% delle emissioni di ammoniaca e in Italia costituisce la seconda causa di formazione di polveri sottili che ogni anno provocano circa 50.000 morti premature nel nostro Paese. Resteranno quindi nel campo di applicazione della normativa vigente solo gli allevamenti di suini con più di 2.000 capi o 750 scrofe e quelli di pollame con più di 40.000 capi. Creare una piattaforma che consenta ai produttori vitivinicoli di monitorare l'abbattimento della CO2 dai campi allo scaffale adottando sistemi di robotica, intelligenza artificiale e blockchain. È l'obiettivo del progetto FreeCO2, frutto del protocollo d'intesa siglato da Università di Palermo e Top Network e cofinanziato dal MISE nell'ambito dei fondi PNRR. Ne hanno parlato all'Ital Press Massimo Midiri, rettore dell'Università di Palermo e Franco Celletti, amministratore delegato di Top Network. In realtà questa piattaforma dovrebbe avere la possibilità di essere utilizzabile sia per il piccolo imprenditore che intende però essere in qualche modo classificato in maniera green e in maniera sostenibile, sia la grandissima azienda. La logica è quella di trovare da quando iniziamo a coltivare il prodotto a quando viene distribuito un sistema che permette di ridurre la creazione di anidride carbonica. Alla redazione del progetto hanno partecipato quattro dipartimenti dell'Ateneo Palermitano Ingegneria, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Economia, Matematica e Informatica. Paolo Inglese, professore dell'Università di Palermo e responsabile scientifico di FreeCO2. Il progetto consentirà di fare il bilancio del carbonio dell'azienda. Il bilancio del carbonio serve all'azienda agricola per capire se la quantità di input e di output che produce sono in equilibrio. In sintesi gli serve per capire se segue una linea capace di mantenere alta la fertilità del suolo e la sostenibilità integrale dell'azienda. Marco Antonio Ruisi, professore dell'Università di Palermo e delegato ai rapporti con le imprese. Ci aspettiamo tanto da questo progetto anche perché abbiamo le competenze integrate di top network che in ambito informatico, di ICT, di blockchain ha delle esperienze consolidate sul campo. Abbiamo dei partner importanti. Dobbiamo considerare anche che il percorso che si sviluppa fino a Valle, e quindi fino alla grande distribuzione organizzata, prevede anche il coinvolgimento dell'ultimo mio, cioè proprio di coloro che poi distribuiscono il prodotto al consumatore finale. La birra è un volano per la filiera dell'agroalimentare made in Italy e il suo consumo durante i pasti, accompagnato da produzioni locali e cibi di qualità, la rende un prodotto virtuoso anche sul fronte del consumo responsabile. Lo rivela una ricerca condotta da Nomisma per Osservatorio Birra e Agronetwork. La birra si conferma un traino decisivo per la fetta di consumi agroalimentari nel fuoricasa che, secondo stime Nomisma Istat, nel 2022 vale 89 miliardi. Negli ultimi due anni il consumo di prodotti agroalimentari di alta qualità nei locali italiani è aumentato del 44%, mentre quello delle bevande registra un più 53%. La birra è la bevanda di qualità più richiesta nei locali, davanti alle bollicine, al vino bianco e al vino rosso. Non solo l'anno scorso fuoricasa e birra sono cresciuti insieme, ma quando al ristorante, in pizzeria, al pub o in trattoria si ordina una birra, otto volte su dieci viene accompagnata dal buon cibo della tradizione agroalimentare italiana. Ad esempio con una pizza, un tagliere di formaggi e salumi del territorio, con un primo tipico o un secondo di carne o di pesce. Nasce Positive Food, l'etichetta sostenibile per alimentarsi bene e in modo etico. Il progetto, sviluppato dall'Università degli Studi di Milano e in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, basa la valutazione di un alimento in un'ottica multifattoriale, andando oltre al contenuto di informazioni nutrizionali. La certificazione, che verrà rilasciata alle aziende su base volontaria, prevede un sistema di punteggio per ogni indice, da 0 a 5, e ha come finalità quella di descrivere un prodotto alimentare nel modo più completo possibile e fornire al consumatore un insieme di informazioni utili per nutrirsi in modo consapevole. Il consumatore che acquisterà un prodotto alimentare etichettato con il sistema Positive Food potrà fruire di dati e valori legati alle quattro diverse dimensioni ambiente, persone, filiera e nutrienti.